Se è doveroso ritirare gli aiuti di Stato illegittimi perché erogati in violazione di norme europee non si può non riconoscere il risarcimento del danno a carico dell'assessorato regionale dell'agricoltura, dello sviluppo rurale e della pesca mediterranea e a favore dei pescatori. Così hanno deciso i giudici della prima sezione del TAR di Palermo sul ricorso proposto da pescatori e cooperative di pesca della provincia di Messina rappresentati dagli avvocati Maria Catena, Spurio Rasizi e Francesco Aloisi, oggetto della controversia ai decreti regionali con i quali era stato prima riconosciuto un contributo pari al 60% della spesa ammissibile per la sostituzione del motore delle imbarcazioni, contributo che fu in seguito ridotto al 30%. I legali avevano chiesto l'annullamento dei decreti e il risarcimento del danno. I giudici hanno rigettato la richiesta di annullamento dei decreti ma hanno riconosciuto quella per il risarcimento. In un passaggio della sentenza è scritto che i pescatori non avevano motivo per dubitare che l'assessorato regionale avesse interpretato correttamente le disposizioni previste per l'erogazione dei contributi e non erano pertanto nelle condizioni di avvedersi che era stato erogato loro un aiuto di stato illegittimo. Da qui sussiste il nesso causale tra la condotta della regione e il danno subito dai pescatori che hanno acquistato il motore per le loro imbarcazioni con un contributo inferiore a quello originariamente concesso. Soddisfazione viene espressa da Nino Accetta, presidente di Fedagri Pesca a Sicilia che ha ringraziato anche i legali per il lavoro svolto. Finalmente si è fatta luce su una vicenda incresciosa che aveva penalizzato le nostre imprese di pesca siciliane che si erano viste decurtare per un errore non imputabile a loro la percentuale di applicazione del contributo comunitario sulla sostituzione degli apparati motore delle imbarcazioni da pesca.